what's up guys con il vostro naked che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori miei nazionalo è giunto al capitolo 2 del come livellare più in fretta le armi e raga oggi sto per dirvi il metodo più efficace raga per livellare due armi contemporaneamente questo serve soprattutto per il momento in cui volete eventualmente livellare un'arma che vi fa vomitare potete livellarla senza neanche fare una kill ovviamente anche per magari armi come i lanciatori per esempio molti mi dicono ma devo fare 800 kill col joker come cappero le faccio per arrivare alla missione per sbloccare le mimetiche adesso vi faccio vedere subito ragazzuoli un metodo super efficace che mi sta permettendo in questo periodo di chiudere mimetiche raga perché sono praticamente alla fine ho fatto quasi tutte le armi oro me ne mancano praticamente due o tre quindi super efficace allora partiamo dall'equipaggiamento equipaggiamento vabbè facciamo finta che dovete che ne so livellare uno lo scudo ok e uno una pistolina ok fin qua vabbè raga ci siamo una cosa importante raga per livellare più in fretta è innanzitutto mettere il tattico s extra e voi mi direte ma perché adesso faccio vedere perché c'è un tattico che aiuta di brutto a livellare ovvero la granata esca la granata esca la castella lanciate in prossimità di dove andate poi a sparare a killare il nemico non ovviamente dove lo dovete killare lo lanciate più o meno in quella zona per ogni kill vi darà 25 kill in più che effettivamente non sono tantissime perché contate che vabbè la kill è 100 però quei 25 spalmati poi nell'arco del tempo vi farà risparmiare due livelli se li mettete no su 20 livelli praticamente due le avete fatti se non tre solo esclusivamente perché utilizzate le granatine esca dopodiché la modalità ovviamente raga che ve lo dico fa allora qua avete meno male vi consiglio tre strade postazione uccisione confermata perché per e soprattutto per chi fa tante kill è la modalità migliore e voi farò vedere perché e ovviamente dominio io partirei con uccisione confermata quindi ragazzoli si parte vabbè adesso lo scudo e la pistolina innanzitutto lanciamo un po di granata esca e fin qua ci siamo un po tutti no prendiamo la prima kill una volta che ho killato la persona no vabbè adesso stato killato una volta che lo killo raga io già mi sono preso i punti con la kill ok con la pistola se eventualmente voglio anche farmare punti per quanto riguarda lo scudo io la piasterina la raccolgo con lo scudo ok quindi i 75 punti che dovrebbero andare alla pistola nel momento in cui io la dovessi mai raccogliere con la pistola in mano vanno allo scudo ok questo cosa vuol dire che lo scudo farma 75 punti ogni volta che io raccolgo una piastrina oppure eventualmente una piastrina alleata ok adesso vi faccio vedere qua faccio 125 più 200 punti e adesso raga ho fatto 200 punti con lo scudo senza fare una kill e questo raga vi permette poi di arrivare a livello 11 per esempio dello scudo ma questa cosa potete farlo io ho fatto l'esempio dello scudo perché effettivamente andare a killare in giro con lo scudo è scomodo ma potete farlo con qualsiasi arma quindi killi switchi raccogli la piastrina e riparti potete farlo ovviamente con qualsiasi arma che avete io adesso lo scudo potete potevate farlo anche con un pompa magari vi fanno schifo i pompa ma volete livellarli oppure col coltello oppure con i lanciatori quanto riguarda postazione raga allora qua il concetto è uguale soltanto che splittato in modo diverso ovviamente qua non ci sono le piastrine da recuperare ma c'è la postazione ok la postazione ok nel momento in cui io faccio piazza pulita entro con lo scudo ho fatto 200 punti ok stesso concetto soltanto che ovviamente riportato in una modalità diversa quindi nel caso che i nemici conquistano io killo però ricordatevi sempre che dovete entrare nella postazione con la secondaria se volete livellarlo ok perché se entrate con l'arma che avete in mano come io adesso se se fosse entrato con l'MP5 i 200 punti se li sarebbe presi l'MP5 ovviamente questo dipende da voi potete anche farmare un'arma velocemente facendo così è nel senso io ve l'ho fatto in modo tale da farne due contemporaneamente raga che è comunque molto importante nel momento in cui dovete avete da fare tante armi che magari volete poi utilizzare all'interno di warzone 2 e vi dirò di più per quanto riguarda postazione vabbè tralasciando questa mappa è una chiavica una delle mie peggiori che non mi piace per niente se fate le kill all'interno della postazione i punteggi saranno raddoppiati adesso vabbè io non ci sto riuscendo perché la mappa perché la lobby se voi killate raga all'interno della postazione la kill vale 2 ok vale 200 punti quindi è come se voi materialmente avete fatto due kill al posto di uno quindi anche questo funziona tantissimo per livellare l'arma quindi killare all'interno della postazione soprattutto se poi andate consecutivamente a killare fate magari con 3 kill fate 7 800 punti ed è come se avete fatto quasi 10 kill ok quindi sono tutti i punti che vanno nell'arma stesso discorso ragazzi per in questo caso dominio ok dominio vale sempre la stessa regola anche qua con il terzo caso però differente se io adesso dovessi andare a conquistare a ok vado con lo scudo quindi la mia secondaria che voglio livellare io aspetto ok nel mentre conquisto la bandiera in questo caso i 100 punti vanno allo scudo ok o eventualmente o all mp 5 o all'arma che avete in mano in quel momento quindi è sempre un discorso di che arma volete livellare indirettamente quindi conquistando gli obiettivi senza dover fare la kill e ve lo dico raga perché per esempio io lo scudo che ho fatto oro l'11 livelli per arrivare alla missione li ho fatti senza neanche fare una kill io facevo così io vi dico la verità io giocavo prevalentemente a uccisione confermata killavo switchavo lo scudo e raccoglievo la piastra perché comunque faccio un po di chi faccio molte kill e mi conviene di più mentre qua comunque ci vuole del tempo poi ovviamente sta a voi su dove preferite giocare vedi io sto qua sto fermo cercando di conquistare ho preso adesso i punti e me li sono presi nello scudo ok un esempio stupido adesso ho preso 200 punti allo scudo quindi due kill mettiamole così senza killare ed è importantissimo perché vi permette di livellare indirettamente continuamente e fare due armi consecutivamente e poi nella resa dei conti quando fate il vostro risocondo giornaliero vi troverete tante armi livellate senza neanche accorgervene quindi inutile che ve lo dica che è una tecnica veramente pazzerella e ovviamente super certificata dal nazionale che vi dà il controllo qualità esclusivo ovviamente ragazzi può fare per esempio non su invasione a meno che non killate i bot ok potete farlo anche con guerra terrestre guerra terrestre se conquistate la zona vi beccate 300 punti ok senza far niente quindi arrivate magari iniziate a killare con il mitraione poi dovete fare volete anche livellare il coltellino perché volete portarvelo avanti andate sulla postazione di guerra terrestre col coltellino e bam vi beccate 300 punti come se avessi fatto appunto 3 kill col coltello pulite 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 ragazzuoli io non ho più nulla da dirvi questo è il mio metodo finale che vi ripeto mi ha permesso di fare praticamente tutte le armi oro adesso tra poco andrò poi per le platino per polo atomica e ulteriormente poi andremo anche sull'aurione quindi però prima di warzone 2 ho già tutto livellato e già tutto oro quindi ho già steso le basi poi eventualmente per chiudere e completare le mimetiche perché poi alla fine per le platino bisogna fare una sfida d'arma per le poli atomiche bisogna fare una sfida arma e via dicendo quindi la base l'ho già stesa alla perfezione ragazzuoli belli fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo metodo pazzurdo per livellare le armi noi ci vediamo domani con il prossimo video bella rega